Weee non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear me screaming? Cosa ci arriva ragazzi nella patch 9.41? Ovviamente innanzitutto il nostro fucile da cecchino fucile di precisione scout tempesta Teniti un passo avanti alla tempesta studiando la prossima area con il mirino telescopico Una particolarità che ha proprio questo fucile nel suo mirino e che da adesso è disponibile finalmente nel battle royale Ma tornano anche ragazzi i regali di compleanno Vi ricordate i regali che c'erano a natale cioè quelle scatolone giganti piene di armi leggendari a volte ne trovavi anche due Loot e tanto altre cose ecco ragazzi arrivano anche per festeggiare ovviamente il secondo Compleanno di fortnite i migliori regali sono le sorprese Apri questi oggetti leggendari per il secondo compleanno di fortnite e scopri che bottino ti aspetta In ultimo ma non meno importante ragazzi la torta di compleanno Festeggia un nuovo anno di fortnite con un po' di torta di compleanno Trova questi dolci prelibatezze in giro per la mappa e recupera un po' di salute e scudo Insomma ragazzi le torte di compleanno faranno le veci delle noci di cocco in poche parole Andiamo a vedere un secondo però di nuovo nel fucile da precisione ragazzi di precisione Allora sappiamo che il danno nella versione epica è 81 nella versione leggendaria è 85 Spara proiettili in 1.1 secondi utilizza ovviamente munizioni pesanti la velocità di ricarica nella versione epica E 2,84 secondi 2,7 invece nella versione leggendaria per quanto riguarda invece i regali di compleanno Sono ovviamente di rarità leggendaria li troviamo nel bottino a terra li portiamo nei forzieri nei distributori automatici E anche nei drop E in chiusura ragazzi le torte di compleanno non si troveranno nella modalità arena Non si troveranno nei tornei solamente nel battle royale e nelle LTM ovviamente del battle royale Fornisce ogni pezzo di torta 5 punti salute 5 punti scudo Per quanto riguarda il gioco invece le sfide a tempo straordinario mi raccomando sbloccare Non sono ancora disponibili mi sa ma arriveranno probabilmente prestissimo io non le ho ancora viste in game Sblocca ricompense per guadagnare punti esperienza con le sfide a tempo straordinario della season 9 Getati subito nel gioco per maggiori dettagli e tra l'altro ragazzi Per quanto riguarda chi utilizza lo streaming interno di fortnite è arrivata la modalità pip la picture in picture Entra nella lobby di fortnite per iniziare a vedere le finali della pro am della world cup Ah no scusate mi ho sbagliato potete vedere le finali della world cup mentre state giocando una partita Quindi probabilmente cliccando nel pop up in alto a destra della lobby Modifiche anche per la creativa arrivano i prefabbricati del set cinematografico e di nuovo la mat caccia all'oggetto prop hunt Tante modifiche anche tante migliorie per quanto riguarda bug minori e stabilità del gioco stesso e insomma ragazzi Io vi ringrazio per aver guardato questo video stiamo tutti aspettando adesso le sfide del compleanno Probabilmente domani e anche che vengano pubblicate finalmente le sfide a tempo straordinario Mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo adesso in live ciao Ciao